Un furto si è già consumato ancora prima della loro apertura. È successo ad Arezzo, nella centralissima piazza Risorgimento, pronta ad ospitare il mercatino di Natale. Qui i ladri sono entrati in azione durante l'allestimento delle nuove casette in legno, in pieno giorno, senza che nessuno se ne accorgesse. Ci hanno rubato del materiale e noi siamo rimasti inconsapevoli di quello che succedeva. È successo in pieno giorno? È successo in pieno giorno. Mentre noi eravamo al lavoro, non ci siamo accorti di nulla. A fare l'amara scoperta sono stati gli stessi operai della ditta che sta eseguendo i lavori, portata via da un furgone una valigetta con un avvitatore dal valore di circa 1000 euro. Avera mai successo un furto durante le fasi di montaggio? No. Come ci si rimane? Beh, è un po' male perché alla fine uno pensa che sta lavorando, di conseguenza... L'azienda non ha potuto far altro che presentare denuncia ai carabinieri. Non si tratta del primo furto ai mercatini di Natale negli ultimi anni, più volte preso di mira dai ladri, ma indubbiamente non era mai successo così presto, ancora prima del taglio del nastro. Andiamo venuti per il furto.